Da sempre riabilitare è il nostro mestiere. Ogni patologia, anche la più complessa, lo facciamo con esperienza pluridecennale, con le migliori professionalità, con equip polispecialistiche e con strumentazioni innovative, ma anche con il calore e il sorriso di chi mette il paziente al centro di tutto. Clinica Villa Fastigi Santo Stefano Riabilitazione.